Non vi era mai sbagliato Allora in realtà non volevo fare il vlog Però siccome è sceso Riccardo dalle montagne No dalle montagne Quelle due volte all'anno Quelle due volte Quindi ecco il vlog Vuoi dire qualcosa? Comunque stiamo aspettando Fabio No Fabio sta parcheggiando E dove non lo vedo? Sta parcheggiando dove è? Comunque Fabio sta parcheggiando tipo lì Qua Una roba del genere Guardalo guardalo Cioè guarda che classe Mamma mia che manzo Bella rega Ma il copyright o come facciamo ora? No vabbè ormai sono famoso Allora stiamo per ordinare le birre Però prima abbiamo pensato di prendere Io e Fabio Negroni Riccardo Io un cognac Ecco una cosa Cognac con cioccolato Cioccolato Quello che faccio sempre con il rum è qua Presto a casa mia A dopo Bisogna che guardi Fai come se fossi in una situazione normale E' pronta per un ritardo? I due negroni sono arrivati Il cognac e il cioccolato E guarda Il cioccolato Con il cioccolato Il cioccolato fondato E' arrivato E quindi ora noi Qual è la chicca? Il cioccolato Mamma mia Va bene Grazie a tutti Salute E Filippo invece sta aspettando di finire di bere Mi sono gustando il mio domicolo Mi sono gustando il mio domicolo Mi sono gustando il mio domicolo Sì Fiiiinalmen... Finalmente Fabio ha finito... No perché va fuori fuoco Finalmente Fabio ha finito di bere il suo Negroni E quindi ora... E quindi ora stiamo ordinando altra roba Sì sì C'entra il cioccolato E... Salute Per colpo sì Allora situazione attuale Abbiamo finito di... Penso che questa sarà la foto di copertina del vlog Quindi abbiamo finito di bere la... Guinness La Dark La Dark La Guinness Kraken con un settore di cioccolato Quella roba là Davvero notevole Quindi ora penso che o prendiamo qualcosa da bere Oppure andiamo a mangiare Che facciamo? Entrambe Entrambe Ma ringraziamo Smuggler per l'accoglienza Ci vediamo dopo Possiamo fare i nomi La serata continua la grande con tequila liscia Tequila liscia e Sambuca E Fabio non ce la fa più Ti parla di fracca Ma che è me? Interrompe Vai Facciamo una marchetta criminale però Perché siamo da Smuggler No Staccato gli imbattiati No Cheers Cheers Aspetta Cos'è che fa? Abbrusai qua Primo piano C'è un quantitativo di pacce Quindi Abbiamo pagato Perché ho pagato Va bene Non ho visto lo scontrino Ce l'ha Riccardo L'ho buttato Quindi ora Andiamo Non è chiuso con la macchina Zio Maiale In pratica l'hanno chiuso Questa è la macchina di Fabio E l'hanno E l'hanno chiuso In realtà se fai una mega manovra Di retromarcia Quindi ora andiamo a mangiare qualcosina Perché abbiamo veramente appetito La speranza che l'altro ragazzo Venga a spostare la macchina Si può rispondere il posto Esatto Quindi ora andiamo al bar a Iello A mangiare qualcosina E vediamo Dai C'è una cosa a pistacchio Secondo voi? L'insegna è accesa Quindi già un buon segno Allora io ho preso una cipollina col tonno Fabio invece ha preso una Un bombolone Pieno di crema di pistacchio e mortadella E invece Riccardo ha preso una diavola pistacchiosa Mamma mia Quindi come dico sempre Buon appetito La carne cruda Comunque Serata è andata benissimo Io ho finito la mia Cipollina al tonno Fabio La mia bombetta pistacchio E invece Riccardo ancora sta finendo Perché giustamente vivendo al nord Se lo sta godendo piano piano Pistacchio di Bronte 100% brontese Ma che è? Pistacchio di Bangla Niente la serata si può concludere qua? Lì già? Oh sì Sbrodoloso Pistacchioso Grondante La parte in cui Gocciolava pistacchio Ci vediamo ad agosto Buona serata Ciao